La valutazione economica dei programmi sanitari destinati agli anziani, che esito ha dato? In realtà ci sono molti programmi di valutazione economica che vengono destinati agli anziani. Altems è in questo momento impegnata in un ampio progetto europeo finanziato da Horizon 2020 che coinvolge 15 paesi nella valutazione sia clinica che poi anche economica di programmi sanitari volti alla riduzione dell'impatto della fragilità nei pazienti anziani. Stiamo reclutando in questo momento i pazienti nei vari paesi. Il nostro obiettivo è di testare tutta una serie di strategie di tipo educazionale combinate anche con interventi di tipo riabilitativo e terapeutico per cercare di capire quale sia il modo più efficiente di gestire queste condizioni ovviamente dato per scontato il raggiungimento di end point clinici. Dal punto di vista di polisi questi programmi di valutazione economica diventano sempre più importanti perché laddove si riesca a gestire un paziente anziano in autosufficienza viene da sé un ingente risparmio di risorse che poi possono essere reimpiegati nel sistema dei servizi sanitari innescando circoli virtuosi e razionali.